Pur rappresentando quasi la metà della forza lavoro impegnata nei campi della Capitanata, appena un quarto dei braccianti stranieri riceve le indennità di disoccupazione a fronte dei tre quarti di quelli italiani. Una disparità di trattamento che secondo la Flai CGL merita l'approfondimento degli enti previdenziali e delle forze dell'ordine. E' quanto emerge dal report sulle condizioni di vita dei migranti in provincia di Foggia, presentato dal sindacato e da Medu, i medici per i diritti umani. I lavoratori agricoli censiti negli elenchi anagrafici in Capitanata sono 48.000, di questi gli stranieri sono circa 22.000. La presenza di braccianti italiani e stranieri si equivale in molte zone, ma in alcune realtà il numero di lavoratori immigrati è molto superiore. Il caso più eclatante è a Lesina, dove rappresentano il 92%, ad Apricena sono il 76%, a Foggia poco più del 70% e a Manfredone il 63%. Ma gli stranieri che superano le 51 giornate, la soglia minima per avere diritto alla disoccupazione agricola, sono appena il 25%, a fronte del 75% degli italiani. Secondo i dati della CGL, inoltre, il volume d'affari che gira intorno al caporalato nel solo periodo della raccolta del pomodoro oscilla tra i 21 e 30 milioni di euro. Se tutto il lavoro in agricoltura fosse legale, sottolinea il sindacato, potrebbero aversi ben 14 milioni di giornate lecitamente retribuite, a fronte delle scarse 4 milioni denunciate negli ultimi anni. La nostra preoccupazione è che possa ritornare un vecchio fenomeno che era quello della compra vendita delle giornate agricole. Quindi il nostro è un messaggio d'allarme rispetto a una legalità generalizzata nel territorio.